Silvana Comaroli, perché al Senato vanno a rilento i lavori per formare la legge di stabilità? Perché la maggioranza non si mette d'accordo, basta vedere questa settimana abbiamo dato tutti gli emendamenti segnalati, le opposizioni sono state responsabili e effettivamente hanno fatto la segnalazione dei più importanti, mentre sia il PDL sia il PD ne hanno segnalato una marea e ovviamente se sono tantissimi è ovvio che poi i tempi vanno a rilento, ma è proprio per colpa della maggioranza una marea di emendamenti e molti dei quali senza particolare importanza se non qualche cura di alcuni particolari orticelli e quant'altro. Infatti doveva arrivare oggi in aula invece tutto rimandato a venerdì, ad ogni modo la Lega Nord su quali emendamenti punta principalmente? Ma sicuramente per le nostre aziende perché per noi sono importantissime, se non si fa qualcosa per le aziende qua cade tutto il sistema, mentre noi vogliamo aiutare le nostre imprese che sono le uniche che ormai resistono e sono le aziende che danno il lavoro, è per quello che per noi è importantissimo cercare di aiutare queste aziende. E un'altra cosa importante sono i nostri comuni, perché non si capisce come mai facciano i tagli, soprattutto sempre ai comuni virtuosi. È una vergogna assoluta che noi non tolleriamo e noi faremo grande battaglia proprio su questi due temi, le aziende e i nostri comuni virtuosi.